Una pista ciclopedonale che colleghi Altopascio, Porcari e Capannori per poi proseguire attraverso il tratto già realizzato a Lucca. È il progetto Francigena Greenways Extend che i tre comuni della Piana hanno presentato alla regione per ottenere un finanziamento di circa 2 milioni e mezzo di euro, costo previsto per dar vita al percorso, grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica per realizzare interventi per migliorare la qualità dell'aria. L'opera si svilupperà lungo la dorsale della via Francigena Storica, mettendo in collegamento alcuni punti strategici dei comuni coinvolti come servizi pubblici, uffici postali, scuole, centri commerciali naturali, spazi verdi, zone produttive e luoghi di interesse turistico, oltre a importanti nuclei abitativi. Il progetto traccia una vera e propria struttura di mobilità sostenibile per l'intera Piana di Lucca, dove si muovono giornalmente oltre 70 mila pendolari, che, in larga prevalenza, si stima l'80%, si spostano attraverso il mezzo privato. Il tracciato previsto ha uno sviluppo di oltre 10 chilometri. Parte dall'ospitale di Alto Pascio per poi entrare nel centro storico del paese del Tau, attraversare Badia Pozzeveri, raccoltarsi alla via Romana ed entrare nel centro di Porcari, Da qui, tramite via del Centenario, torna sulla via principale romana, intercettando l'accesso alla frazione di Paganico e proseguendo sulla via comunale fino al centro di Capannori, da dove può proseguire in direzione Antraccoli, e poi Lucca, utilizzando il percorso già realizzato.